Grazie al ritmo della partita che detta, grazie a un ottimo player che fa girare e mettere in evidenza talento nelle mani che hanno i suoi compagni, si trova meritatamente in testa alla classifica e direi che un'altra volta Rigoni ha colpito facendo la squadra per le esigenze che il gioco che prediligono sia messo in campo. Noi ovviamente dobbiamo essere, stare attenti a, come spesso dico, diminuire il loro talento e cercare di imporre le qualità che abbiamo partendo sempre dal bilanciare i rimbalzi, cioè di coprire con le palle vaganti che ci sono, di essere reattivi, di avere possibilità di punire in attacco quello che vogliamo. La vittoria ci ha permesso di essere più tranquilli, di fare un ulteriore passo magari in avanti per cercare di ottenere quello che si può. diciamo che non cerco di vendicarmi e direi che è sbagliato. Da ogni realtà dove ho lavorato porto solo i bei ricordi a Bologna troppo belli, perciò ho piacere di tornare sapendo che ho fatto, che abbiamo fatto in quel bienio da una neopromossa ad una vice campione d'Italia è stato veramente bello e certamente mi fa piacere di tornare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.